Le Marche tornano in zona arancione dal lunedì l'annuncio del presidente Francesco Acquaroli che spiega abbiamo il dovere di fermare questa fase del virus. Contagio in aumento e paura per le varianti. Il governatore firma l'ordinanza chiusa e tutte le scuole superiori stretta per le medie nel Lanconitano e nel Maceratese. Scoppia un incendio nella sede di Fano TV a causa del malfunzionamento di un televisore soccorsa per accertamenti una nostra collaboratrice. Fano punta sul completamento della ciclovia adriatica approvato in giunta al tratto del percorso che collegherà Torretti a Ponte Metau. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Nel telegiornale di questa sera dobbiamo raccontarvi purtroppo di un fatto di cronaca che ha riguardato la nostra emittente. A causa del malfunzionamento di un televisore oggi all'ora di pranzo è scoppiato un incendio nella reception della nostra sede. Allora ripercorriamo insieme che cosa è successo insieme al direttore Marco Ferri. E questa edizione cari telespettatori del nostro telegiornale dobbiamo iniziarla qui dall'esterno della nostra sede in via Paolo Borsellino a Fano. Ed è un'edizione che abbiamo preparato con molta difficoltà perché nel pomeriggio abbiamo dovuto ripristinare un po' tutta la catena di montaggio della nostra televisione. Perché che cosa è successo? È successo che intorno alle 13 e 20 di oggi è scoppiato un incendio nella reception che è l'ingresso dell'emittente. E' un televisore, qui avevamo 5 televisori, questo televisore qua è andato a fuoco, è caduto e ha cominciato a prendere fuoco tutto quello che c'era qua. Qui c'era una scrivania con una sedia ed è come vedete andato tutto in fumo. Chiaramente i danni soprattutto sono legati al fumo ma sono circoscritti diciamo all'interno della reception. Poi un po' di fumo è entrato anche negli altri locali ma possiamo dire che è andata bene. E' andata bene anche perché all'interno c'era la nostra Letizia, Letizia Marchionni che era nell'ultimo ufficio quindi lontano da qui ma che evidentemente ha avuto la sua bella dose di paura e ne ha avuta tanta possiamo immaginarlo. Ma sta bene grazie al cielo ha fatto dei controlli anche in ospedale quindi è tutto a posto e di questo noi siamo assolutamente felici. Per il resto ecco dobbiamo raccontarvi semplicemente di questo fatto di cronaca che ci riguarda ancora una volta da vicino e anche perché questa reception è la seconda volta che va a fuoco. Tutto bene adesso dovremmo rimetterci in carreggiata, ripulire, ritinteggiare, sistemare, rimettere a posto tutto quanto però per il resto insomma ringraziando il cielo è andata bene. Quindi andiamo avanti più forti di prima. Per chiedere di consentire lo svolgimento di attività personali ed economiche ma in questo momento aggiunto abbiamo il dovere di fermare il prima possibile questa fase di recrudescenza del virus a tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini marchigiani. E come annunciato oggi Acquaroli ha firmato l'ordinanza con la quale torna a chiudere tutte le scuole superiori. Nelle province di Ancona e Macerata entrano in didattica a distanza al 100% anche i ragazzi che frequentano la seconda e la terza media. Il servizio di Angelica Panzieri. Il presidente della regione Francesco Acquaroli firma l'ordinanza per la didattica a distanza. Da domani sabato 27 febbraio andranno in dad al 100% tutte le scuole superiori della regione e in provincia di Ancona e Macerata anche le seconde e terze medie. Obiettivo ridurre la pressione sul sistema sanitario regionale alla luce dell'andamento epidemiologico in evoluzione che segnala a partire dalla provincia di Ancona ma anche negli altri territori un incremento dei contagi da coronavirus nelle fasce d'età giovanili. L'ordinanza la numero 6 del 26 febbraio 2021 sarà valida a partire da domani sabato 27 febbraio fino al 5 marzo giorno di scadenza dell'attuale DPCM. Resta garantita la possibilità di svolgere la presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Un provvedimento necessario per contrastare la diffusione del virus in ambito scolastico e nelle classi di età maggiormente colpite intervenendo nelle province in base alla differente intensità di incidenza rilevata nelle diverse fasce di età. L'incidenza è maggiore nella provincia di Ancona e Macerata, specie nelle classi di età 11-13 anni e 14-18 anni. Tuttavia, fanno sapere dalla regione, si segnala anche nelle restanti province un deciso incremento dei contagi nella classe 14-18 anni. Da questo si è reputato necessario l'intervento su tutto il territorio regionale. Nel provvedimento viene disposta anche la proroga fino al 5 marzo, scadenza dell'attuale DPCM, delle ordinanze già in vigore, che dispongono i limiti di spostamento in entrata e in uscita nel territorio provinciale di Ancona e le restrizioni per i venti comuni in zona arancione dell'Anconetano. Nelle Marche sono 16 le persone decedute con Covid-19 nell'ultima giornata. Si tratta di 7 donne e 9 uomini di età compresa tra i 59 e i 95 anni, tutti con patologie pregresse. Nessuna delle vittime risiedeva in provincia di Pesero Urbino. Rimane alto anche il numero dei positivi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 686, di cui 323 nella provincia di Ancona, seguita da quella di Pesero Urbino con 114 casi. Negli ospedali della regione c'è un ricovero in meno rispetto a ieri. Pazienti in terapia intensiva sono 81, mentre quelli in semi-intensiva 159. E anche a Colli al Metauro preoccupa il notevole incremento di contagi tra giovani e giovanissimi. Un aumento che è stato riscontrato dai medici di base. Per questo l'amministrazione comunale ribadisce l'importanza del rispetto delle norme anticontagio e predispone attraverso la polizia locale maggiori controlli sul territorio con l'obiettivo di sensibilizzare più persone possibili. Ancora a Sanità, dalle 8 di domani, sabato 27 febbraio, sarà possibile prenotare il vaccino anti-covid per il personale scolastico delle scuole pubbliche e delle università, docente e non docente, con un'età fino ai 55 anni non compiuti. Le vaccinazioni inizieranno lunedì 1 marzo, mentre le modalità di prenotazione sono le stesse già avviate, quelle che vedete in questo momento nel cartello. L'Università Politecnica delle Marche e quella di Camerino invece procederanno alla vaccinazione autonomamente nelle loro sedi, avendo a disposizione il proprio personale sanitario. Ed ora torniamo a Fano perché ci sono buone notizie che riguardano la ciclovia adriatica. La Giunta Comunale ha approvato il tratto mancante che va da Torrette a Ponte Metauro. È stato presentato questa mattina dal sindaco Massimo Seri assieme all'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli il masterplan della ciclovia adriatica, un progetto approvato ieri dalla Giunta che dona una visione generale del percorso della pista ciclabile e di cui il tracciato, diviso in tre stralci, parte dal confine con Marotta per collegarsi poi con quello di Pesaro. Il primo stralcio, un tratto di 1,2 km che passa nella strada di Ponte Sasso, è già in fase di realizzazione e sarà inaugurato nel mese di maggio. Va dal rio Crinaccio a Via Iozzino sull'Arenile, quindi ci saranno alcuni spostamenti che adesso in accordo anche con i proprietari concessionari si andrà proprio a svolgere questo piano particellare per poter poi andare avanti con i lavori. Un tracciato largo 4 metri, quindi darà molto valore turistico a questa zona. Da Via Iozzino si uscirà verso, diciamo, Monte della Ferrovia e il tracciato quindi si sposterà una decina di metri dal tracciato ferroviario per poi proseguire verso il Ponte Metauro. Il terzo stralcio appunto parte da Via Iozzino fino al Ponte Metauro incluso. Sul Ponte Metauro, ha proseguito Tonelli, abbiamo lasciato una doppia opzione nell'attesa di capire quale sia la zona migliore dove realizzare il tracciato. Potrebbe passare vicino alla Ferrovia oppure alla Statale Adriatica. Si tratta di uno snodo molto importante perché collega sia il quartiere di Tombaccia che le future ciclovie turistiche sul fiume Metauro. Un'infrastruttura importante per la mobilità leggera, ha aggiunto il sindaco di Fano Massimo Seri e con un grande valore turistico ed urbanistico. E quindi siamo pronti per la seconda fase che è quella della progettazione, innanzitutto quella della fattibilità, ma soprattutto pronti per quelle che sono le opportunità da recovery plan che sappiamo che rientrano a pieno titolo sia delle indicazioni regionali ma anche nazionali. Quindi vogliamo farci trovare preparati per quel momento ma è una risposta anche a una strategia complessiva della città. Insomma, un altro tassello importante lo abbiamo messo. A Vallefogli invece il sindaco Palmiro Ucchielli ha ottenuto il Sì della Regione per uno studio di fattibilità per una metropolitana di superficie che potrebbe andare ad unire due vallate. L'idea di un collegamento ferroviario Pesaro-Fano-Fossombrono-Urbino-Montecchio-Pesaro di una metropolitana leggera, fuoriterra, è importante, affascinante e soprattutto utile. Utile ai cittadini per tutelare meglio la salute, riducendo fortemente l'inquinamento atmosferico, riducendo fortemente gli incidenti stradali, molti dei quali addirittura anche mortali. Quindi diciamo lo studio di fattibilità già approvata al Senato fino ad Urbino va esteso a Montecchio-Pesaro. Direi che le due vallate del Metauro e del Foglia hanno un buon 80% del sistema economico e produttivo dell'intero territorio, circa 30-40 mila imprese. Ho visto tanto consenso attorno a quest'idea di una metropolitana leggera, Pesaro-Fano-Fossombrono-Urbino-Montecchio-Pesaro, circa un centinaio di chilometri in cui c'è un sistema di viabilità ordinaria, magari perché no un sistema ciclopedonale e la ferrovia sarebbe proprio il massimo. E domenica 28 febbraio, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare, l'arco d'Augusto di Fano si illuminerà di verde per accendere le luci su queste patologie. Infatti, sebbene riguardino oltre un milione di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo, le malattie rare restano malattie sconosciute, spesso anche alla comunità scientifica. Così, le associazioni del territorio insieme al Comune hanno deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione che è promossa a livello nazionale. I rappresentanti si ritroveranno sotto il monumento alle ore 18 e 30. Adesso cambiamo argomento. Da qualche giorno viene segnalata la presenza di un fenicottero tra Fano e Pesaro. Il CRAS, il Centro di Recupero per Animali Selvatici, fa sapere che questo esemplare non si trova in difficoltà e non necessita di essere recuperato. Ha bisogno di tranquillità e di riposo. Sono animali estremamente delicati e soggetti a stress, spesso provocato dalla presenza umana. Il CRAS dunque consiglia di non avvicinarlo per fotografarlo e tantomeno di toccarlo, ma consigliano anche a chi passeggia lungo il litorale con i cani di tenere gli amici a quattro zampe al guinzaglio per non arrecare disturbo al fenicottero, che tra l'altro è una specie protetta. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi la nuova stagione di esplorare i confini del Circolo Bianchini di Fano. La prima puntata sarà dedicata all'astrofisica con una cacciatrice di pianeti. Vi ricordo invece che lunedì sera sarà ospite di primo cittadino il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. E questa edizione del telegiornale termina qui, un'edizione che siamo riusciti a garantirvi nonostante le numerose difficoltà. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che oggi pomeriggio sono intervenuti tempestivamente, dai vigili del fuoco, ai sanitari, alle forze dell'ordine. Un ringraziamento anche a tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di solidarietà e di vicinanza. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS